vabbè intanto allora provo a far finta di avere un pubblico che mi segue e mi ama allora le ultime due volte ho dovuto rimandare per la telecamera e di quanta per vari motivi oh e il mio babbo c'è è già qualcosa ciao babbo è tanto ci si vede allora per vari motivi ho dovuto rimandare le ultime due volte recupero oggi in grandissima improvvisazione non musicale ma mi è venuta così ho detto per correttezza per chi eh aveva aspettato fino all'ultimo le scorse due volte ho detto va recuperato assolutamente eh e lo faccio oggi così ho visto è domenica eh a un orario spero accessibile a tutti io eh spero anche di leggere i commenti le domande come sempre chi ha partecipato a quelle degli anni scorsi sa che eh ovviamente si parla di musica ma mi potete chiedere quello che volete curiosità tante domande mi sono arrivate via email eh riferite alle alla diretta che poi è stata rimandata due volte quindi ho una bella lista però preferirei anche eh parlare con voi in live proprio diciamo così eh che dire non l'ho fatto non l'ho potuto fare eh la scorsa volta quindi faccio ora auguro a tutti un grande duemilaventitré di di musica e non solo ovviamente tra l'altro almeno un mio babbo mi può dire se si sente la voce c'è solo lui quindi io chiedo a lui eh un duemilaventitré vi auguro ricco ricco di musica e non solo quindi tante cose belle eh a voi che mi avete sempre seguito supportato ho ricevuto anche proprio eh ieri eh mi sembra ho da memoria ieri o ieri l'altro dei commenti meravigliosi eh vi apprezzo tantissimo questa cosa per me è la forza eh che che mi dà mh sono quelle cose che mi danno la forza e la voglia e lo stimolo di di continuare nella musica sempre i complimenti fatti così senza eh secondi fini diciamo spontanei sono meravigliosi allora qualcuno inizia a vederlo no è sempre il solito il mio babbo eh va bene proviamo di qua ok ragazzi se non io non riesco a vedere i commenti del di youtube non so perché eh casomai mandatemeli su facebook che ha il mio facebook ricorciardi basso facilissimo così almeno li leggo intanto parto dalle domande che avevo ricevuto anzi grazie a tutti quelli che eh che avevo ricevuto per mail grazie a tutti quelli che me l'avevano mandate in anticipo perché sapevano eh di non poter partecipare in diretta quindi mi avevano chiesto se potevo parlare di se potevo rispondere a loro quesiti e poi l'avrebbero rivista in in differita diciamo si fa così anche oggi tanto poi se riesco sperando che funzioni tutto la rimetterò per chi non è presente quindi parto con Marco eh vado veramente non ho preparato niente ho testimoni mi babbo ero con loro fino a poco fa quindi tutto super improvvisato va leggo e cosa viene viene allora mi sembra un po di parlare con i muri come diceva un grande personaggio libornese che scriveva sui muri eh da trent'anni famoso Zeb di Livorno e un giorno scrisse proprio su un muro boiade e trent'anni mi sembra di parlare con i muri quindi oggi a me mi sembra parlare con i muri perché vedo solo il mio babbo quindi eh vabbè allora Marco potresti mostrarci da vicino i plettri della Martin si trovano ancora ok questo è facile allora ce l'ho qui guarda ecco ne uno intanto grazie mille a tutti i miei collaboratori qui dietro che vedete mi passano la roba mi passano da bere grazie a Alfredo e Mirko eh applauso allora Marco i plettri della Martin purtroppo purtroppo ahimè non non si trovano non si trovano te lo dico per certo perché eh sono ovviamente un appassionato di di John Deacon dei Queen e questi come saprai magari lo dico perché magari altri ragazzi non lo sanno sono i plettri che usava lui eh John non dico The Queen quindi io ebbi la fortuna tramite un un altro collega di comprargli eh una decina dodici d'anni fa su ebay era rimasto un negozietto che aveva una scorta in magazzino un negozietto in America aveva una una scorta in magazzino e questi plettri proprio questo modello eh e li presi tutti eh con un mutuo un rene e tanti debiti ma feci una genialata una delle poche della mia vita perché poi sono spariti ce l'aveva solo lui veramente lo cercati anche eh in Cina e in Germania in America ovunque per per anni perché poi sono tanti gli amici e colleghi che mi hanno chiesti non si trovano più me ne sono rimasti anche pochi perché ti spiego questi plettri che sono onestamente molto buoni non perché eh sì forse c'è anche il fattore psicologico che gli usava il grande John però obiettivamente sono plettri veramente fatti con criterio e fatti bene l'unico problema è che sono di plastica questa è una sì una sorta di plastica questo è il modello eccolo martin blu non so se si si mette a fuoco martin blu heavy heavy eh che hanno questo grip appunto per non far perdere la presa eh hanno un ottimo attacco perché essendo appunto questa plastica molto dura hanno un suono molto adatto al rock al punk unica cosa come dicevo me ne sono rimasti pochissimi che si rompono molto facilmente infatti se vedi i concerti delle queen io ho visti usare solo a lui questi plettri sinceramente eh molto spesso eh li si rompono e ad esempio Wembley su su dei finali sul finale di now I'm here now I'm here eh ne rompe addirittura due perché comunque lui le trava molto forte appunto questi non durano moltissimo ahimè ne ho anche pochi me ne sono rimasti pochi e li tengo tipo come eh come le cose sante ecco questo purtroppo ti devo dire che eh ahimè non si trovano più poi chissà se un giorno qualcuno li rimetterà in in commercio vai tranquillo che eh te lo scrivo vado avanti se non ci sono domande online non ne vedo non mi scrive nessuno quindi va bene faccio come Zeb parlo da solo ok allora Lorenzo tra le tue lezioni tecniche scusate eh guardo un po' qui perché ce l'ho scritta qui quelle di eh quelle dalle mail e sono anche un po' cieco quindi Lorenzo mi scriveva tra le tue lezioni tecnica ho apprezzato in particolare quella dove sono i patterns in terzine sulla pentatonica l'ho trovata molto interessante ed utile per diverse cose coordinazione mano destra e sinistra timing conoscenza della tastiera e molto altro ti andrebbe di mostrarci qualcosa di simile allora Lorenzo eh ora non so di preciso a quale eh lezione ti riferisci perché ormai eh sono diciamo circa due anni che metto lezioni online quindi non fate tante ora ricordarmeli tutte non è semplice però credo di aver capito eh qualcosa del genere dove prendevo una pentatonica appunto come mi hai scritto mi sembra sì patterns sulla pentatonica quindi eh mettiamo pentatonica di la maggiore quindi io ecco questo non andava ecco ditemi caro babbo se si sente anche in basso mi sembra facevo una cosa del genere quindi pentatonica di la maggiore la si do diesis mi e fa diesis ovviamente posso farla così così quindi come dico sempre ogni scala ogni arpeggio ogni triade eh tutto cercate di studiarla su tutta la tastiera si sente bene anche il basso ok ma male meglio così ehm quindi dicevo pentatonica di la la posso suonare sul sul range basso dello strumento ma anche spostarmi finché appunto il mio il mio strumento me lo permette chi avrà cinque sei corde avrà più eh range più possibilità chi come me a quattro corde si fermerà a un certo punto non è a questo l'importante l'importante l'importanza di questo esercizio che eh si può ovviamente prendere spunto per crearne poi altri milioni comunque era appunto la coordinazione perché era a parte in terzine tre note alla volta della scala quando poi arrivavo in alto proprio per spostarmi per studiare per immagazzinare la scala su più con più diteggiature possibile e composizioni diverse ripetevo il pattern quindi era un po' questo da qui si può prendere come dicevo tantissimi spunti qualcosa di simile eh uno che mi piace moltissimo sempre rimanendo il tema di pattern eh la scala esatonale ad esempio che ne esistono solo due mi vado veloce perché voglio rispondere a più domande possibile eh la scala di 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 si di do diesis di re diesis che è uguale sempre uguale sempre composte da da le stesse cinque note oppure quella di di do di re di mi di fa diesis prendiamo quella di si e questi sono fatti in eh gruppi di quattro note quindi questo ora lo faccio ad esempio in sedicesima si può fare in terzine eccetera eccetera quindi io parto da un'idea che magari anche questa della pentatonica l'ho presa sicuramente da qualcun altro poi ho creato qualcosa di mio ci aggiungete eh quello che volete in termini di eh ritmica eh cambiare sempre più tonalità poi come avete visto cerco di far lavorare la mente e non fermarmi in una determinata porzione della tastiera vado vado in su esploro esploro tutto il manico e questo poi direte voi cosa cosa me ne viene perché devo studiare con tutti questi eh tutte queste difficoltà in più potrei limitare la pentatonica a suonarla qui eh diciamo chi se ne frega no però immaginatevi di fare una solo e dico che voglio usare eh questa pentatonica dico rose ciao grande grande te ciao ok qualcuno c'è forza vi saluto vi saluto tutti anche chi non scrive chi non non può scrivere ciao a tutti eh dicevo immaginatevi di dover fare una solo e voi conoscete una scala questo caso la pentatonica solo in questa posizione qui e dopo un pochino eh le idee finiscano scarseggiano perché è come se io venti parole nel mio vocabolario personale eh diciamo devo fare un discorso conosco venti parole le puoi girare come vuoi ma poi finiscono se invece io questa scala la studio su tutto il regno del mio strumento posso sì iniziare eh magari mi asso su questa parte della tastiera quindi il regno basso o meglio basso ma poi dopo un po' magari delle frasi mi eh mi sposto sul range alto sul registro alto quindi è come conoscere tre lingue e avere una facoltà di espressione eh clamorosa ecco eh chi era Lorenzo sì ok vado avanti domande live non ne vedo quindi io proseguo eh Giulio eh ciao Igor complimenti per lo giaco swing sarebbe bello una lezione su fondamentali del vivo eh allora qui si va un po' nel complicato nel senso che caro Giulio grazie per i complimenti intanto giaco swing magari eh eh Bebop per chi non è magari ferrato nel jazz è un'epoca del jazz è uno stile di diciamo è è uno stile di di musica derivato ovviamente dal jazz anzi eh si parla degli anni trenta quaranta dove eh per motivi storici ora non sto proprio a andare su sulla storia della musica comunque eh si suonava questi ritmi molto veloci eh quindi le formazioni erano per lo più piccole composte da batteria contrabbasso eh un fiato poteva essere un sax e un pianoforte diciamo la in linea generica generale era questo quindi vi parlo di Charlie Parker and company eh ritmi molto veloci brani dove spesso il tema eh quindi la melodia del del pezzo non veniva nemmeno proposta si pensava molto all'improvvisazione quindi eh parlare eh sarebbe bella una lezione su fondamentali del vivo eh intanto ti rimando al mio libro Giacomo Pastorius eh studio completo c'è un proprio un paio di capitoli dedicati a Bebop e al modo di Giacomo di suonare Bebop quindi eh suonare Bebop col basso elettrico è ancora più difficile che suonarlo con lo strumento dell'Ecoca che era il contrabbasso pensate a Donna lì rifatto su basso elettrico per lo più senza tasti insomma eh fare una lezione ci vorrebbe un corso ecco un corso più che una lezione comunque il consiglio è partire sempre dagli standard quali sono gli standard del Bebop? I pezzi appunto di Charlie Parker e tutti quei musicisti che ruotavano intorno eh già studiare le melodie eh eh parte difficilissimo e comunque è già un ottimo studio ci entra nel nelle mani quel modo di suonare quel tipo di fraseggio appunto tipico del Bebop poi ci sono delle scale che si chiamano Bebop non non per non così a caso ma proprio perché erano le scale usate eh più frequentemente da da musicisti che improvvisavano in quell'epoca e e poi che dire ascolto ascolto e ascolto quindi c'è anche una radio ora non so ora un po' che non l'ascolto si chiama eh c'è un app che si chiama radio jazz o qualcosa del genere che poi all'interno era o è divisa in varie vari canali in varie stazioni eh e una era appunto Bebop o hard bop anche che è un ancora una sotto diciamo gruppo diciamo così del Bebop che da ventiquattro ore al giorno eh musica appunto jazz Bebop latin eccetera ecco io mi facevo di ascolto e ovviamente quando poi vai a studiare un genere tra l'altro molto molto complicato se lo se quel tipo di musica ce l'hai né nell'orecchio eh è molto meglio che volessi avvicinare un genere può essere qualsiasi genere e non conosci niente come se volessi studiare musica classica e non sono nemmeno un brano di di Beethoven o di Bach ecco quindi prima cosa l'ascolto eh vado avanti dai questa la segno eh chi era eh Giulio ok Giulio spero di averti accontentato poi Daniela ora si dà si dà la precedenza sempre alle donne quindi eh aspetta allora anche eh eh ah Nico mi 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 scrive Igor perdonami se è fuori luogo niente è fuori luogo qui si parla di tutto alla grande però eh sa suonare anche l'ukulele eh mi ci viene da ridere scusa perché ne ho parlato recentemente con dei colleghi magari nel tempo libero come ovvio allora io l'ho provato l'ho suonato e ci ho imparato degli accordi l'ukulele è è uno dei degli strumenti che mi mette più allegria a penso non solo a me perché è proprio divertente sia da ascoltare che da suonare tra l'altro mi hai dato una grande idea perché tempo fa lo volevo acquistare e poi per vari motivi non 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 ci sono riuscito per varie cose ma ora che mi me lo hai ammettato te grande Nico grazie me lo segno me lo segno e me lo compro e poi ci farò anche qualche video quindi grande e grazie eh quindi dicevo Daniela si può non dare eh la precedenza alle donne mi capirete mi scrive mi ha scritto per mail sono alle primissime armi con il basso tecnicamente parlando mi sto trovando abbastanza mio agio con la mano destra mentre ho grossissime difficoltà con la mano sinistra a partire presumo da una postura errata dita che si alzano senza volerlo difficoltà a premere le corde con anulare e minuto eccetera eccetera ti ho trovato per caso su YouTube a differenza vabbè da questo me lo risparmi differenza di tantissimi fenomeni tra virgolette mi piace molto perché trasmetti veramente tantissimo con la tua semplicità grazie grazie a te Daniela bellissimo complimento grazie mille allora ti rispondo eh la rileggo un attimo scusa sono le primissime mano destra ok mi trovo grossissime difficoltà con la mano sinistra a partire presumo da una postura errata dita che si alzano senza volerlo difficoltà a premere le corde con anulare e minuto allora eh la postura sì come hai detto giustamente tu eh Daniela sì la la postura è fondamentale allora io faccio sempre l'esempio anche quando vengono ragazzi giovani a lezione che purtroppo gli dico resisti eh sopportami ma sulla postura io ci perdo un po' più di tempo perché pensate ad esempio a un pianista eh che va a suonare va a lezione da da bambino vuole imparare a suonare il piano e si mette a suonare così un po' la giovani a levi un po' gobbo se il l'insegnante maestro la maestra di turno non lo corregge subito questo eh prende il vizio l'abitudine di di suonare così io ho fatto esempio il piano forte ma qualsiasi strumento e Nico scusami ora leggo tutto quello che mi ha scritto ehm quindi sta a all'insegnante qui correggere subito la postura proprio perché eh se ce la portiamo avanti come è successo a me per altre cose ma eh poi mi riallaccio il tuo discorso delle dita che partono da soli se non le correggiamo subito ce le portiamo dietro e poi diventa un veramente complicato eh appunto tornare indietro e e riprendersi quindi siccome ho letto che sei all'inizio alle prime armi come si correggia la postura se non hai un insegnante lì vicino te lo te l'auto correggi semplicemente eh con i segnali che tira il tuo corpo quindi se senti eh dei muscoli dei tendini dei dei nervi qualsiasi cosa che che dalla spalla fino alle dita della mano fino alle unghie che si irrigidisce che ti fa male che senti che non che non è completamente libero e rilassato quello è il segnale che ti dice no fermati c'è qualcosa che non va quindi primo consiglio tenere il basso eh alla giusta altezza può essere una cosa eh ritenuta banale ma non lo è come si fa qual è secondo me l'altezza giusta del basso poi è ovvio che si può suonare anche eh un po alla panca maniera oppure si può suonare anche così ognuno si deve trovare bene eh insomma nel modo che preferisce secondo me il modo migliore per trovare la la propria altezza naturale è quello di mettere la tracolla che ora scusate ma non ho portata in mano e suonare da seduti e regolarla in modo che quando vi alzate non cambia niente quindi vi rimane esattamente il basso nello stesso modo questa è la prima cosa che io consiglio sulla postura quindi avere una tracolla regolata eh che vada che il basso rimanga esattamente lo stesso nella stessa posizione diciamo sia da seduti che da alzati ok questa è la prima cosa poi per hai detto che hai più problemi per la mano sinistra eccetera gli esercizi migliori sono sempre quelli classici quindi scale cromatiche Manuel ciao Manuel grande un po' che non ci si sente poi ti scrivo ti chiamo eh esercizi dicevo quelli che conoscerai sicuramente sono sempre migliori perché eh non hai da pensare troppo quindi un dito per tasto parti sempre dal range medio o anche altro dello strumento altrimenti qui ti fai male all'inizio perché i tasti sono più larghi parti che ne so dal decimo tasto questo esercizio ora cerco di andare veloce perché ho tante domande eh ti danno appunto eh a parte fare pratica ti danno le avvisaglie appunto di una postura errata perché se eh ad esempio un'allieva mia eh che saluto se se mi sta guardando non lo so eh norida ciao norida anche lei ha e sta superando questo questo problema delle dita che eh si allontanano dalla tastiera quindi mettendosi lì e cercando di far caso a ogni singola nota devi riuscire a suonare completamente rilassato quindi parlo di spalla di avambraccio eh di gomito di mano le le dita stesse quando riesci a quando senti che in una determinata posizione stai completamente libera allora piano piano ti sposti verso l'inizio della tastiera quindi i due tasti sono più larghi e ricordati che per il discorso delle dita che si allontano mi succedeva anche a me quindi questo quindi quando non suono con un dito il dito mi si mi si allontanava dalla tastiera faccio una fatica clamorosa ricordati che in senso ascendente una volta che ti hai premuto una nota e vai a quella dopo il dito diciamo precedente io lo lascio lo lascio eh premuto quindi sulla sul tasto sulla corda quando invece vado in senso discendente cerco di tenerlo appunto più vicino possibile si allontana il fisiologico una cosa normale però cerco di limitare questo allontanamento per rafforzare poi indici anulare meno ora io non mi piace farmi pubblicità anche se diversi amici tipo antonio che se c'è lo saluto mio grande collaboratore antonio se ci sei salutami non ti vedo anche se ecco dovrei come diceva sempre lui mi faccio un po di pubblicità ti consiglio il mio libro 500 esercizi per basso elettrico è uno di questi ma ora non voglia che mi casca tutto se no eh dove c'è un capitolo intero dedicato a alla mano sinistra e soprattutto appunto a chi ha problemi eh con le dita diciamo più devoli quindi terzo e quarto dito detto in gergo bassistico eh anulare meno quindi tutti esercizi per rafforzarli per l'indipendenza e le dita eccetera eccetera allora cara daniela forza e coraggio e se hai altre domande scrivimi tranquillamente allora ritorno a nico io ce l'ho scavolato diciamo eh ce l'ho ho scavato qualcosa da autodidatta guardando gli accordi su youtube e per me che sono fuori a questo mondo mi piacerebbe suonare ho strippellato qualcosa ma è davvero difficile mai suonato uno strumento accordi né mai studiato con uno che va a orecchio scavolo qualche melodia di piano alla pianoforte eh di ammonica ho suonato tra l'altro traverso e piccino per due anni scusami se mi sono dilungato figurati eh dai si organizza una cena lì alla terra dal mio abbo e appena lo compro lo porto e ci si diverte insieme lo so non è semplice come tutti gli strumenti non solo quelli a corda eh però ci sono anche dei metodi didattici molto molto economici che trovi molto facilmente e spiegati eh cioè gli argomenti sono spiegati in modo molto molto carino e molto simpatico e ora non mi ricordo il titolo l'ho visto altri giorni da una mia collega che lo suona eh che aveva il metodo lì ma ora mi sfugge il nome comunque Nico tanto ci si sente eh e te lo faccio sapere vado avanti intanto salutavo anche Manuel che mi ha fatto la battuta sempre il solito e continuo a salutare tutti quelli che ci sono che però non vedo vado un po' a caso dai oggi allora il ganji questo deve essere di Firenze eh i ganji con la i i ganji ciao anche io ritengo che lo studio delle melodie sia una delle cose più importanti nel nostro studio hai qualche consiglio a dare in merito qualche bella melodia da studiare e qual è di solito il tuo metodo di studio in questo senso il ganji però ripete le parole più di me perché ha detto studio dodici volte in quindici parole scusate scusate la rileggo anche perché non ci ho capito molto perdonami il ganji tanto con un nome così so che sarai starai allo scherzo la rileggo scusami ciao anche io ritengo che lo studio delle melodie sia una delle cose più importanti nel nostro studio hai qualche consiglio a dare in merito qualche bella melodia da studiare e quale è di solito il tuo metodo di studio in questo senso grazie grazie a te perché è meravigliosa questa domanda è favolosa scritta così e allora scusate ragazzi perdonatemi non vedevo delle ripetizioni così da molto tempo allora qualche bella melodia io ritengo lo studio delle melodie se non al primo posto del pacchetto studio nei primi tre di sicuro perché è una cosa che ho sottovalutato per anni molti troppi anni ringrazio una persona senza fare nomi tanto capirà se guarda per avermi invogliato a a studiare proprio quella parte di musica che davo un po per di seconda importanza io invece che appunto la parte melodica di un brano quindi il tema il cantato il il suonato da uno strumento perché noi bassisti tendiamo a pensare molto a la nostra parte quindi la parte ovviamente ritmica e armonica quindi conoscere gli accordi le note e non facciamo molto caso purtroppo almeno parlo per me non facevo molto caso alla melodia cosa succede che quando poi si improvvisa finché noi suoniamo il nostro accompagnamento senza curarci dell'improvvisazione diciamo tra virgolette se ne può fare anche a me quando poi ci si ci si butta nella parte improvvisativa ciao rigo su youtube non hai l'audio su youtube non ho l'audio mi dispiace cavolo non so ora come un attimo controllo provo un attimo a fare una cosa allora scusate un attimo ragazzi provo a far funzionare anche youtube vediamo se ci riesco al volo vediamo ora se va allora vediamo se ho recuperato ecco qui ci sono qualcuno mi dica qualcosa allora io mi risento su youtube quindi a regola dovrebbe funzionare tutto speriamo dai semmai scrivetemelo grazie scusate per l'interruzione qui è tutto attivo ok allora non mi ricordo più cosa stavo dicendo molto bene ah si delle melodie ganji mitico ganji che mi chiedeva le melodie dicevo quando poi ci si butta nell'improvvisazione se non conosciamo le melodie andiamo un po' a caso questo succede spesso non solo ai bassisti ma un po' in generale ai musicisti perché non conoscere la melodia come fare un discorso senza sapere bene di qual è l'argomento di questo discorso ecco diciamo così se invece io faccio una conferenza diciamo e so che parliamo di basso elettrico difficilmente finirò poi oddio io ci sono capace però difficilmente finirò a parlare delle automobili ecco per dire so che l'argomento è quello ci ruota un po' intorno così nella musica conoscendo la melodia se anche poi facciamo un esempio io vado a una jam session parte un brano che in cui ho difficoltà di improvvisare perché c'ha tanti accordi o per mille motivi o perché c'è tanta gente e mi nervosisco e mi dicono vai Igor fai un giro di assolo ecco se io non conosco la melodia posso andare veramente in confusione come mi è successo come è normale che succeda e le idee scarseggiano in quei casi lì e in molti altri casi non solo per quello si studia le melodie ci mancherebbe però conoscendo la melodia al limite alle brutte la risuono ci giro un po' intorno come dicevo prima e mi salvo quindi salvo porto a casa il risultato se invece vado un po' a caso ecco è più difficile ovviamente le melodie si studiano anche per un po' come in tutte le cose si immagazzina immagazzina immagazziniamo determinate melodie e poi queste ci entrano in testa ci entrano nelle mani anche per comporre roba nostra ovviamente non è un copiare è una cosa che è naturale prendere spunto ecco quindi anche per questo motivo qualche bella melodia da consigliarti questo va veramente nei gusti personalissimi proprio io ultimamente sto è un consiglio però ripeto sono gusti mi sto guardando molto spesso le melodie dei film in particolare sono un amante delle melodie dei film un po' storici una delle ultime che avevo avevo risentito per caso e quindi l'ho voluta guardare col basso ora vado un po' a memoria era il film Braveheart cuore impavido non so se conoscete il film se non lo conoscete vi obbligo andate subito ora a vederlo perché è uno dei più bei film di storia di guerra diciamo mai concepiti proprio e la colonna sonora è fantastica ora ve la faccio un si maggiore ve la faccio quello che mi ricordo è una cosa del genere questo è il tema principale della melodia è un esempio dei miliardi dei triliardi che potrei farvi l'ultimo demo cani ad esempio che c'è sia una parte proprio diciamo di basso diciamo così eccetera eccetera la parte melodica questo è un altro esempio oppure si va che ne so su su morricone ecco lì c'è l'imbarazzo la scelta veramente oppure sulla musica classica ecco l'importante è non fermarsi mai ad esempio anche nella musica classica per i nor bassisti si sente sempre la suite il preludio della suite numero uno se ci si ferma però sempre è un po' come per le band per il pop se si ascolta solo i successoni quelli che passano in radio ci si perde poi tutto il bello di un compositore di una band di un cantante anche per esempio proprio la suite numero uno secondo me il secondo movimento è molto più bello del preludio che il preludio è proprio un'introduzione l'alemande che fa eccetera eccetera ora vado un po' a memoria quindi io ti consiglio ci sono anche dei libri apposta si trovano facilmente di studiarle le melodie con criterio quindi ovviamente ti deve piacere quello che che vai a studiare però deve essere anche più vario possibile quindi non limitarsi mai a per dire mi studio dieci anni di morricone per carità benissimo però cerca di variare il più possibile ecco poi i consigli qui ci potrei stare fino a domani il mio metodo di studio è tirarmele giù a orecchia io non prendo mai gli spartiti io so che che è un po' noioso soprattutto quando si ha poco tempo già la trascrizione per sé è noiosa lo capisco però a me mi rimane più in testa se una cosa me la trascrivo quindi mi metto lì ora non vi dico con il pentagramma con la matita anche se serve cosa buona è giusta però anche con software l'ascolto trovo la linea la scrivo mi rimane più più impressa quindi me la ricordo più facilmente ecco questo è il mio metodo se è una composizione con tanti strumenti magari non è che sto a trascrivere proprio tutte le parti prendo quelle che mi interessano di più e vado allora vado avanti qui chi c'è allora su youtube l'audio ora va perfetto ok mi babbo oggi fa da collaboratore claudia ah ciao claudia ciao io sto studiando il tuo corso di armonia mi trovo molto bene grazie grazie a te grazie a te fammi sapere anche dei dei pedalini degli effetti se poi ti sei trovata bene un saluto e un bacione vado avanti allora per ora con con qualche domanda arretrata allora questo è il come si dice il l'aiutante importasse un po' d'acqua che inizia a allappare un po' allora so Fabi Fabi però Fabio Fabiana non si sa so che non sono domande da non fare allora non me le fare scherzo ma sarei veramente curioso di sapere a che altezza tieni le corde sul tuo meraviglioso fretless allora vediamo un attimo se ho eh non sono domande da fare perché lo sai che io non ci sto molto attento come ho detto in mio corso quello di setup l'officina del basso elettrico importantissimo libro e corso fatto su youtube vediamo se ho un calibro eccolo eh questo trallaccio mi è rimasto da dalla mia ex 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 ragazza mi dispiace ma non ho più avuto modo di ridarlo quindi se mai vedessi questa diretta Chiara questo era tuo eh allora te le dico subito le misure però premetto che non stare attento a quello che è eh diciamo quello che è il mio setup eh fallo come ho detto appunto nel libro eh in base ai tuoi gusti non ci sono eh dei limiti non ci sono degli obblighi se ti trovi bene con le corde alte mezzo metro chi è il mezzo metro sempre non facendo cercando di non far male allo strumento se ti trovi bene con le corde diciamo rasoterra come si suol dire quindi vicine a alla tastiera va benissimo quelle che ti darò sono misure personali mie no? che le tengo perché la Fende o Yamaha o che ne so la Cort mi dice che vanno tenute in quel range lì no? perché mi trovo bene io così sul fretless aspetta un attimo grazie a Giorgio che mi sta aiutando tantissimo oggi vediamo allora intanto si prendono misure con le corde senza senza essere premute intorno al diciassettesimo tra virgolette tasto io ho sulla corda di me vediamo eccolo qui diciamo 0,2 mm forse un pochino di più 0,3 sì a me salta 0,2 0,3 sulle corde di mirla poi un pochino meno non tanto sono tutte sul fretless sulla stessa altezza quindi io provo a fare questa cosa qui se si vede la misura ora non riesco a metterla a fuoco siamo sui due praticamente i due millimetri ecco dai quindi su un fretless non è poco infatti vediamo se è così ti rendi conto meglio non è poco però è la misura con cui io quando faccio il setup davvero lo faccio sempre nei limiti del possibile con il basso attaccato con le cuffie stringo a lento in questo caso le sellette e sento il suono e il tatto quindi la mia mano come si trova su tutta la tastiera diciamo poi sto attento che suoni bene i tasti o nel caso il fretto insomma in tutte le parti della tastiera che basso suoni bene e quelle sono le mie misure poi se è 0,2 0,3 o mezzo metro ecco poco me ne importa diciamo così vado avanti claudia mi risponde già provati fantastici yeah mi fa stra piacere mi ricordo il riverbero e il chorus io poi presi appunto non so se te lo dissi quando ci si incontrò per per quella cosa presi questa che mi ci trovo da dio ne ho parlato in un tutorial rinnovo il consiglio a tutti chi ha bisogno di una pedaliera multi effetto la zoom b6 b6 è veramente il top tra quelle che ho avuto modo di provare quindi mi fa piacere claudia ci sentiamo molto presto e un caro saluto a te allora poi ale inizio veramente se pietro qui mi sente mi porta un po' d'acqua grazie allora come si ottiene Ale mi dice come si ottiene un bel suono pulito con la mano destra consigli dimmelo anche a me perché io lo sapete che con complimenti non ci vado tanto d'accordo comunque se me lo chiari vuol dire che ritieni che io abbia un bel suono pulito allora qui devo fare però un discorso leggermente più lungo ovvero io ho due modi di suonare diversi a seconda di quale basso suono sul basso con i tasti tendo di più a suonare in questa parte del con la mano destra in questa parte del body quindi sul pick up al ponte sul fretless un po' meno dipende da che tipo di linee sto suonando mi avvicino molto di più sul sulla tastiera quindi sul pick up al manico sul precisio che è il basso che suonavo all'inizio diciamo all'inizio della mia carriera musicale avevo avevo un altro un'azio tecnica ancora quindi era un collato sul pick up ora insomma non si vede sul pick up classico del preciso come sapete ha solo il pick up in una posizione diciamo chiamiamola centrale e io stavo un collato lì e anche quando suonavo la corda di sol pollicione sul pick up e via e me ne fregava un po' del il muting diciamo quello che una delle caratteristiche di un suono bello tra virgolette di un suono bello è il muting quindi la pulizia del suono ovvero cercare più possibile di non far rumori strani o corde che risuonano involontariamente ecco quello è avere in parte è fondamentale per avere un bel suono quindi un suono pulito cosa succede quando poi io andavo tranquillo tanto suonavo nelle band dove ci sono tanti strumenti tante cose che fortunatamente coprono un po' tutto quello che sono gli errori diciamo coprono un po' anche tutti i difettini sul sound quindi appunto note che risuono quando poi ho iniziato per vari motivi a registrare quindi ti trovi te il basso e le cuffie e basta è lì che poi sono dolori e risenti tutto quello che negli anni non hai mai fatto non ci hanno fatto caso quindi appunto note che risuonano sbattimenti di di corde sbattimenti di corde tasti eccetera eccetera quindi i consigli quali sono trovare il vostro modo di suonare senza anche qui perché io suono sul ponte perché mi piace il sound mi trovo meglio nelle cose veloci se dovessi fare una cosa del genere qui sarei più impacciato ecco quindi una cosa soggettiva anche questa poi registrarvi perché appunto solo registrandoti registrandovi potete sentire veramente bene tutto tutto quello che è la vostra linea di basso quindi è lì che si sente errori di ritmi canintonazione se suonate senza tasti appunto di di pulizia del suono eccetera registrarsi 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 anche cose anzi soprattutto cose semplici quindi linee di basso molto molto semplici e poi riascoltare e quindi sviluppare anche l'orecchio vedete da una cosa ne nascono mille quindi riascoltarsi fare caso a tutto e migliorarsi quindi poi perché cercando poi di trovare appunto il giusto la giusta pulizia piano piano poi diventerà automaticamente il vostro modo di suonare è così e poi la pratica tanta pratica tanti salti di corda quindi esercizi seste ad esempio ora sentirete tanto i tasti che battono e che sono vicinissimo al microfono però questi tipi di esercizi dove si salta tanto tra una corda e l'axe ad esempio sono ottimi vediamo un po' chi mi ha scritto poi nessuno poi come si ottiene io ad esempio ho innanzitutto ascoltando grandi bassisti quindi partire da Giaco Rocco Prestia Prestia non mi ha capito se si dice Rocco Prestia Rocco Prestia perdonami eccetera eccetera da loro io ho imparato tanto ovviamente anche grazie ai miei insegnanti Ash McRab ma anche appunto guardando e ascoltando i mostri sacri del bass quindi Rocco Prestia qualcuno poi mi dirà come si dice è uno di quelli che ho guardato di più esaminato di più studiato di più lui aveva un muting con la sinistra incredibile forse solo Giaco ecco è arrivato poi a quel livello lì un'altra cosa quindi il muting con la sinistra intendo quando suono il Sol poi passo la corda di Re con la sinistra in qualche modo vado a stoppare a fermare la corda di Sol ok andrebbe approfondito questo discorso però cerco di rispondere a tutti quindi perdonatemi se tiro un po' via con la mano destra invece mi aiuto quindi rispetto a quando suonavo il precision che stavo un collato sul pick up ho imparato innanzitutto a scendere sulla corda di Mi quando suonano le altre corde raramente vado fino a La quindi anche quando suono Sol io sto facciamo una scala quindi parto da Re scala di Re vedete mi sposto subito quando vado a suonare la corda di La col pollice sul Mi che mi fa da appoggio e quindi lo stop automaticamente non suona più tenendoci il dito sopra un po' davanti quando arrivo poi alla corda di Sol le due dita che fino a qualche anno fa mi potevano anche amputare che non le usavo mai sono l'annulare e il mignolo quindi terzo quarto dita un gelbo le uso per stoppare quindi appoggiando anche queste due vediamo se si vede ecco così forse si vede vedete li tengo appoggiati sulla corda di Re di La e mi aiuto anche con queste poi diventa un meccanismo automatico all'inizio ci si fa tanta tanta attenzione poi diventa automatico ora non è che quando suono ogni noto sto a guardare dove mettere le dita mi riuscivano da sole questa è un'altra tecnica che appunto ci aiuta avere meno rumori possibili quindi usare queste due dita anulare il mignolo per fermare le corde che non suoniamo non so se ha un nome questa tecnica io questo non lo so però a me fa molto comune pratica tanta pratica e via poi allora Paolino ciao Paolino i tuoi tre brani preferiti in assoluto da suonare uno di classica uno jazz e uno pop cavolo mi vuoi male allora caro Paolino vabbè dai uno come si fa sceglierne uno uno di ogni genere classico allora classico io un brano solo non ci riesco veramente tutto quello che è epoca Bach barocco mi piace quindi è troppo generico come risposta ma anche la domanda è un po' difficile diciamo che le sonate sì forse le sonate di Bach sono le più divertenti da suonare con il basso oppure le c'è troppe cose dalle sinfonie alle suite io parlo di Bach perché è il mio compositore preferito però ho analizzato anche tante altre cose da Chopin a Mozart cioè veramente è un mondo se proprio dovessi dire un pezzo la suite forse la numero sei forse che è quella meno conosciuta che mi piace più di tutte da suonare per quanto riguarda la classica poi mi ha chiesto Jets che qui ragazzi come si fa come si fa a rispondere a questa domanda a livello di divertimento da suonare ecco ogni volta che ha una gem o comunque gruppi che ho avuto viene proposta Take the Train che ora magari il titolo non vi dirà niente ma era la sigla di una trasmissione sportiva molto famosa avrei un ricordo quale il preciso era tutto il calcio minuto per minuto qualcosa del genere sapete col canto non sono bravo Take the Train ecco lì amici diverso perché sia la melodia sia la parte sia accompagnarlo questo brano è veramente una figata assurda e anche ascoltarlo e basta è veramente bello diciamo quello dai e una pop pop è un cidesmo sono troppi i brani mi piace suonarli come si fa dai diciamo quelli che propongo di più nelle band sono classiconi boh forse divertente da suonare diciamone uno col fret perché la mia passione ma è un classico every time you go away di la linea di Pino Palladino è il brano di aiuto non mi viene Paul Young Paul Young bellissimo brano lo propongo sempre quasi mai non lo fanno fare però c'è una linea di basso fretta spettacolare quindi da tol risposto allora basta bellissimo io vi farei leggere queste domande perché ora a parte se giro schermo ora si fa un casino allucinato però basta basta 25 mi scrive ogni ogni quanto tempo cambi le corde sono sono rotosound giusto hai qualche consiglio per farle durare più possibile allora caro basta ragazzi scusate ma allora si sono rotosound per la precisione rotosound swing 66 ruvide in acciaio aspetta cosa mi chiedi ogni quanto tempo le cambio e se ho qualche consiglio per farle durare di più allora io non sono un maniaco della pulizia dei bassi anche perché insomma si vede no non è che li tengo proprio da manuale le corde per farle durare di più so che molti molti colleghi so per certo anche perché li vedo dopo ogni volta che finiscono di suonare hanno un cincino e vanno ad asciugare a pulire le corde perché ovviamente già il sudore che emaniamo quindi dalle dita va a contatto con le corde le corde assorbono poi vuoi l'umido la temperatura esterna la pioggia a volte ho preso tutto questo non fa bene alle corde non fa bene alle corde nemmeno il suonarle 12-13 ore al giorno come facevo io ecco è ovvio che dureranno di più se suonate meno però è un po' un cane che si morde la coda preferisco poi dipende anche da quanto vi piacciono le corde nuove perché non è detto ad esempio su le corde lisce che anche lì usavo quando le suonavo usavo le rosso sound più io ho delle corde di 15 anni fa ce l'ho ancora smontate ma ce l'ho ancora perché più andavano a invecchiare più mi piaceva il suono sembra strano ma è così sulle corde ruvere un po' meno arrivi a un punto in cui quasi non suonano più però le cambio veramente anche perché ragazzi con tutti i bassi che ho insomma se dovessi cambiare una volta al mese sarebbe veramente una spesa enorme è ovvio che dipende anche dal periodo cioè d'inverno che suono meno live e studio magari di più è inutile cambiarle spesso ci tengo magari un pochino di più quando d'estate molti live magari ci tengo anche a avere un suono abbastanza carino quindi evito magari di arrivarci con le corde di due anni insomma diciamo ogni tre mesi dai linea in massima e linea in media ogni tre mesi cambio le corde più o meno è stato un po' di più di un bene un po' di meno i metodi io so anche che qui mi ci viene da ridere perché c'è gente che le fa bollire nell'acqua come se fossero spaghetti numero 5 ardente e e dice qualcuno sostiene per me è una favola sostiene che mettendoli nell'acqua a bollire quando poi sono pronte quindi 10-15 minuti di cottura a fuoco medio riprendono magicamente riprendono la loro diciamo la loro brillantezza che hanno all'inizio io sono molto credente di mio quindi anche questo sorvolo però provateci magari viene non vi viene magari le corde buone ma fate che ne so un ragù poi allora ecco come ti alibas anche qui alice alessio 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 è ale quindi ali non lo so chi è come ti prepari per un provino in una band per un eventuale esame di musica allora diciamo che sono due argomenti si possono coesistere ma due approcci diversi allora provino in una band quando mi presentavo in una band 15 anni fa ovviamente avevo un'esperienza diversa e un cervello diverso da quello che ho ora consigli non dare niente per scontato anzi le cose che sembrano meno importanti a volte sono proprio quelle che fanno poi la differenza sul risultato quindi arrivare conoscendo perfettamente i brani magari a costo di dire a chi ci chiama guarda invece di 5 ne porto 3 però quei 3 poi li portate perfetti quindi sapete non solo la vostra parte ma come dicevo prima la melodia gli accordi è meglio studiarne meno ma arrivare lì senza lo spartito in avanti senza il tablet come va ora ma andando a memoria che almeno vi vedono più convinti eccetera è meglio che studiarne 15 male però avrai poi bisogno degli appunti avere già un'idea del suono che volete poi avere in sala prove o dove sarà questo provino quindi se è un attribute tribute magari prima oltre a studiare i brani studiate anche il bassista di questa band che andate poi a suonare quindi se serve un suono più tondo più chiuso andate a botta sicura io metterai sempre tutto un flat quindi lasciate perdere l'amplificatore e lavorate sul bass quindi ovviamente il tono più chiuso magari suonare più in una posizione rispetto a un'altra quindi avere già le idee non voler strafare questa è una cosa che mi dico mi autodico anch'io io tendevo a un po' come quando si va a lavorare no? vabbè che anche noi musicisti si vanno a lavorare ma come in un lavoro qualsiasi il primo giorno del lavoro si tende a voler far vedere che sappiamo fare che siamo volenterosi che facciamo più di quello che è richiesto ecco è un errore clamoroso perché poi intanto non è che volersi mostrare è un bel pregio eh quantomeno non sempre e poi ci sarà un'aspettativa altissima dopo quindi fare quello che vi chiedono se un brano è così se ha questa linea di passo è inutile che fate come avrei fatto io beh scavolo l'accordo no si fa questo curando però magari quelle poche cose quei pochi elementi che ci sono ma curandoli con estrema precisione ecco questo è non voler strafare fate quello che vi chiedono non non più di quello comunicazione visiva quindi far vedere che non è che siete lì a suonare da soli ma siete in una band e poi sorridere sempre un'altra cosa che ringrazio la stessa persona che ho ringraziato prima mi ha segnato a sorridere sempre perché tanto quando andate a suonare che sia un provino che sia un concerto che sia qualsiasi cosa la gente vuol vedere questo no questo quindi non gliene frega niente di se in quel momento vi sentite poco se vi girano le scatole per qualcosa no loro vogliono vedere il concerto sono venuti o insomma gli altri membri della band vi hanno chiamato perché vogliono vedere questo quindi sorride ah questi sono le le maggiori maggiori consigli un esame un po' diverso perché io ho avuto per tanti anni la difficoltà a affrontare gli esami eh perché diciamo mi proprio mi bloccavo no mi bloccavo come come i primi live se sapevo che tra il pubblico c'era gente diciamo polleri no io invece di esserne contento come lo sono ora mi bloccavo mi irrigidivo ecco questo fa tanto la la pratica diciamo io ho avuto la fortuna di di lavorare tanto nei live quindi fare tanti 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 concerti tante serate di di generi diversi questa è stata una fortuna perché quella paura lì o ti va via oppure smetti a me è andata via ecco posso sono andato anche in parchi un po' più un po' parecchio più importanti e ci poteva anche essere 15 milioni di persone ormai anzi più cinema quindi questo e per gli esami un pochino più duri come la scuola anche lì c'è chi è più come si dice più più teso più emozionato e c'è chi li vive più tranquillamente questo ovviamente è una cosa fa parte del carattere provare a divertirsi anche agli esami è il miglior consiglio ma anche quello forse un po' più più stupido da dare però io ho fatto stacche all'esame di diploma ci andai con meno diciamo meno aspettativa da me stesso con più voglia di divertirmi a differenza degli esami precedenti guarda caso andò molto bene tra l'altro preso in voto secondo me esagerato comunque andiamo avanti allora questo è molto recente Nicola ciao Igor purtroppo non riesco a partecipare alla tua diretta mi dispiace molto però una richiesta a farti non hai mai pensato di fare una pubblicazione anche sul grande Patrick Givas spero che qui si pronunci così grazie ancora per la tua grande disponibilità Nicola allora il mitico Patrick Givas io non so veramente come si pronuncia ragazzi sono una frana bassista storico degli aree poi della PFM tra l'altro grande amico di Giacomo Pastorius insomma uno dei più forti bassisti nel panorama italiano e non solo anche se lui è di origini ovviamente straniere francesi ma credo sia italiano ora non mi ricordo bene ecco lui che ha inventato tra l'altro la linea ai bassi di impressioni di settembre è colui che ha registrato miliardi di brani e è colui che ha avuto il piacere e l'onore di conoscere e di suonare insieme a Pastorius in un'intervista che si trovate su YouTube parla proprio di questo fatto dei aneddoti spettacolari è stato se non il primo sicuramente tra i primi tre a suonare il basso Fretless Fretless in Italia io penso che lui Red Canzian siano stati veramente i primi forse lui anche prima di Red perché io penso ci vada a primi metà anni settanta ora non voglio dire in esattezze chiedo scusa se sbaglio però sono quasi sicuro che sia stato uno dei primi a togliere i tasti proprio grazie anche a Giacomo al basso non ho mai fatto pubblicazioni perché sei obiettivamente non il primo perché mi sono state chieste trascrizioni su di lui sulla PFM eccetera e anche sull'area però non sono nemmeno tantissime le richieste quindi era un po' ci avevo pensato però è un pochino rischioso perdere magari tanto tempo perché le linee basso sue non sono mai banali non sono mai semplici però ho fatto ad esempio appunto impressioni in settembre eccetera eccetera poi ho fatto maestro della voce ora me la ricordo ragazzi è passato troppo tempo comunque dai ci penso e se hai soprattutto qualche brano in particolare magari te lo trascrivo se ce l'ho te la passo poi Nicola ho risposto io ragazzi veramente siamo un'ora e venti oggi farei un'ora e mezzo perché non ho non ho non avendo aiuti non ho nemmeno considerato molto intelligentemente di portarmi un bicchiere d'acqua qualcosa sto veramente male perché non sono sono un chiaccherone ma non ogni tanto faccio le pause quando chiacchiero invece ora a tu per tu con voi non posso fermarmi e comincio sai a avere la golla che che chiede pietà quindi dai alzi dieci minuti tanto non è che sono eh pastorius per l'appunto che per me potrebbe potrebbe avrebbe potuto parlare sette ore sarei stato così va bene dai allora eh alex parlando di in diretta non ce ne sono vero domande no per ora parlando di improvvisazione hai dei suggerimenti per andare un po' out con criterio risultando comunque piacevoli parlo di jazz allora alex eh se guardi un po' se scorri un po' tra le mie lezioni tanto qui viene giù il mondo eh troverai proprio una playlist con scritto improvvisazione dove ne ho parlato veramente tanto oppure il mio corso di armonia applicata eccolo qui questo c'è che è un libro che trovi come tutti i miei libri in vari formati in varie lingue e in vari eh rivenditori quindi Amazon il mio sito eh eccetera e anche qui ne ho parlato veramente tanto quindi eh è un discorso un po' lunghino da affrontare così in una diretta ognuno ha i suoi eh diciamo parlando improvvisazione un po' di out risultando parlo di jazz ognuno ha i suoi cliché le sue scale preferite eh anche qui però ti consiglio di andare un po' di eh a braccio diciamo senza quando improvvisi non stare troppo quantomeno fallo a casa però poi lasciati andare nei live non pensare come un sol settima allora ci suono la misolidia di no buttati e fai tanta pratica a casa studia le melodie come dicevo prima e poi le sostituzioni per andare un po' out sono veramente tantissime le possibilità infinite direi a me piace molto qui si va a gusti ad esempio su sugli accordi di dominante prendiamo un sol settima dai suonare per esempio il tritono quindi l'arpeggio costruito sul re bemolle in questo caso re bemolle fa la bemolle ora non ho una base per farvi sentire come suona però su questo accordo qui una delle sostituzioni quindi che uso più frequentemente è l'arpeggio sul tritono quindi una quarta aumentata sopra cosa succede che sull'accordo di sol settima quindi sol si re fa le note dell'accordo vado a suonare re bemolle che è la quarta aumentata quindi siamo già out fa settima minore la bemolle che è la seconda minore quindi molto out e si naturale che va bene la terza sarebbe do bemolle comunque si naturale che la terza maggiore di sol quindi ho due note veramente molto out che mischiate all'arpeggio di sol settima secondo me creano un effetto bello piacevole oppure la sostituzione l'arpeggio diminuito sul terzo grado maggiore quindi sol settima vado a suonare un si diminuito è ancora un altro colore di di sound e di linee che mi dà questo tipo di sostituzione però veramente si potrebbe parlare all'infinito vado avanti a quanto siamo un'ora e ventitré da un altro paio di domandine allora Alex ok allora li accordi sul basso cosa ne pensi come li usi e come li hai studiati in anonimo cattivo proprio bellissimo questo questo è un altro nome favoloso mi avete fatto ridere un sacco oggi con nomi allora li accordi sul basso cosa ne pensi come li usi e come li hai studiati allora cosa ne penso che se fosse per me io il basso suonerei come una chitarra però ahimè si suona il basso quindi bisogna suonarli con estremo estremo criterio quello giusta dose diciamo perché altrimenti ci fucilano poi dipende ovviamente da cosa stiamo suonando con chi stiamo suonando io ora sto facendo degli arrangiamenti per un progettino che poi vedrete basso e voce solo basso e voce e lì è ovvio che suono gli accordi anche gli accordi soprattutto gli accordi che sono solo io quindi devo dare un bel supporto armonico alla voce ma se suoniamo in una band l'accordo gli fa la tastiera la chitarra è come se un pianista ci suona purtroppo lo fanno ahimè con la mano sinistra ai bassi quindi le note basse pianoforte a tutto fogo come si dice da ogni parte e vanno a cozzare con le nostre note basse si va sullo stesso registro due strumenti raramente coesistono bene senza darsi noia quindi vanno usati con criterio dai possono essere molto belli in certe circostanze molto belli per abbellire un groove una frase eccetera poi come le ho studiati le ho studiati un po' facendo prove su prove nel senso sto suonando una linea in re settima vediamo un po' che accordo è sentiamo come suona e intanto mi memorizzo la posizione o le posizioni per re settima a quale posso trasportare tutte le tonalità un po' così non ho mai seguito una guida su come suonare gli accordi sul basso poi si possono suonare a tre voci a quattro ora sul basso un po' più complicato però insomma un modo nell'altro oppure b chordi a partire magari da di armonizzazione e le scale e come e poi cosa come gli studiati sono i pezzi mi dico vabbè ok ho risposto a tutto ragazzi facciamo l'ultima domanda vediamo se c'è in diretta la preferirei no non ne vedo in diretta dai fatemi l'ultima live se no vediamo dai se arriva bene ma intanto allora vado a rispondere a chi c'è allora ah ecco questo l'avevo vista prima Enzo Enzo ok da bassista fanatico dei Queen ecco solo te anch'io ovviamente ho ovviamente preso i tuoi fantastici libri grazie mille Enzo puoi darmi qualche informazione sul tuo magnifico Fender preciso nero guarda eccolo qui sembra identico a quello di John dal tour 86 in poi grazie allora lo prendo un attimo se lo vedi meglio allora questo si leva grazie vi chiedo anche un applauso a tutti i collaboratori che mi hanno riempito da acqua veramente e di aiuto vedi su cambi basso su su leggere le domande un applauso a tutto lo staff di Igor Sardi ok vi do anche un'accordatina e ci sono ecco vedete un altro grande una grande caratteristica della pedaliera zoom che pigi il tuo pulsantino ti esclude il suono da fuori e ti accordi tranquillamente ok allora mi chiedevi qualche informazione in più sul magnifico Fender preciso nero sembra identico allora sì qui non ti nascondo che l'ho fatto l'ho creato ecco qui se c'è il mio babbo ancora in linea si ricorderà lo ringrazio perché fu lui a darmi una grande mano nell'assemblare sì appunto in tutte le parti di questo basso babbo se ci sei ti ricorderai bene perché questo basso è composto da un body di un'epoca quindi dei primi anni 2000 di uno standard era già nero solo aveva il battipenna bianco mi sembra quindi ci cambiava il battipenna e il manico era il suo originale quindi i primi anni 2000 che poi ho cambiato e l'ho messo sull'altro fender precisio che ho questo è un manico dei primi anni 2010 quindi 2010 2011 questo invece se lo ricorda bene a mia mamma perché costò di più la tassa perché l'ho preso in America non sapevo di questa tassa adoganale insomma mi costò più quella del manico comunque vabbè era un fender precision se c'è scritto american special guarda aspetta diciamo così vediamo se vedi la paletta vede si ok l'ho preso appunto nuovo nuovissimo in America e ho avuto fortuna perché non lo cambierei mai e poi mai questo manico l'ho provato anche degli anni 60 70 questo raggiunsi proprio il migliore acquisto della mia vita pagato un bel po' però poi cosa feci per copiare John ordinai e lì veramente l'altro rene che mi era rimasto lo spesi in questa occasione comprai il ponte della Scheller o Scheller anche qui non so come si dice che è questo che ragazzi se mi casca su un piede ve lo frattura perché pesa una tonnellata e le manopole sempre color oro e le meccaniche sempre della Scheller o Scheller vedete se faccio così si vede bene il colore che dopo anni e anni rimane perfetto ecco dicevo lì mi aiutò molto il mio babbo perché non avevo ancora esperienza su queste cose e vi assicuro che avere un basso di questa questo valore anche affettivo non solo economico tra le mani e doverci fare i fori nuovi perché non tornavano del ponte i fori delle meccaniche perché non ne tornava uno ecco lì fu un grande aiuto appunto del mio babbo che con pazienza e con direi infinita precisione mi fece un lavoro si fece insieme ma grazie a lui venne diciamo perfetto dai lo posso dire quindi è composto da questi da questi vari vari elementi e ci cambiai anche i pick up perché originariamente aveva il Seymour Duncan se è more Duncan mi sembra SP B1 può essere non mi piacevano un granché li trasferi sul precision diciamo di riserva che si intravede laggiù marrone sopra per il pedazzo alla foto di John e qui ci misi i Fender aiuto i Fender vintage mi sembra Fender vintage precision vintage sì mi sembra o antiquity o ora mi ricordo via se lo faccio sapere li guardo poi dopo non me lo ricordo e qui c'è un classico suono ora non so cosa si sente col microfono aspetta spengo un attimo a o Grazie per la visione Grazie per la visione per far scorrere queste dirette alla meglio però mi rendo conto che un aiutante serve perché io avrei preferito comunicare un po' di più proprio sul live con voi però purtroppo con la tecnologia diciamo che ecco vedi ora ho visto altre altre domande purtroppo l'ho vista ora ragazzi vi saluto tutti e me le asserbo per la prossima volta vedo Claudio Baccino o Bucilli Rupert Ster Gabriele Pagano Pagano Massimiliano Pacini ciao Rocco Stereo ragazzi vi saluto tutti scusate ma l'ho vista ora queste me le memorizzo dai o faccio delle lezioni singole nelle quali vi rispondo o farò un'altra diretta organizzata un po' meglio in periodi migliori però ci tengo veramente io non so quanti quante persone ci saranno state quante quante vedranno questo video dopo vi ringrazio uno per uno tutti come dicevo tempo fa e mi sono divertito anche perché alcuni di voi mi hanno veramente fatto sganasciare alle risate con queste domande meravigliose vi giuro che non era niente di di preparato e di visto ho tutto improvvisato ma penso sia capito grazie a tutti quelli che hanno interagito in diretta grazie Claudia grazie Nico grazie Andrea grazie Manu grazie Armi Babbo grazie a tutti spero dai di avervi tenuto compagnia un'oretta in modo positivo e poi le prossime news saranno comunicate tramite le mie lezioni andate a dare un occhio sul sito perché c'è delle delle offertone clamorose sui miei libri e che dire continuate a seguirmi se vi va se non vi va non mi seguite ecco molto chiaro e molto semplice scherzi a parte grazie davvero a tutti è sempre un piacere fare queste queste cose perché veramente puoi ricevere i complimenti è un grande traguardo Andrea grazie grazie Igui bella diretta grazie a te grazie anche a Claudia grazie Andrea ciao Andrea Nervi ciao grazie grazie a voi ragazzi vi saluto vi mando un grande bacione a tutti come ho detto all'inizio chi non l'ha visto auguro un 2023 veramente da 23 con un po' di 23 perché a Livorno 23 è fortuna diciamo così quindi tanta fortuna a voi e anche a me dai anche a me un bacio a tutti e alla prossima